L'impegno delle ACLI di Bergamo viene da lontano. Da oltre 70 anni sosteniamo il lavoro, promuoviamo cultura e diamo voce a nuove idee. Rispondiamo ai bisogni delle persone e abbattiamo le barriere all'ingresso del mercato del lavoro. Lo facciamo grazie ai nostri sportelli di orientamento e di assistenza informatica e attraverso l'attivazione di borse lavoro per i più vulnerabili. Costruiamo spazi di dialogo e confronto lavorando con le comunità locali. Da anni promuoviamo percorsi di formazione politica e di cittadinanza attiva. Aiutiamo i giovani a progettare iniziative per il proprio territorio. Realizziamo eventi e attività culturali per riflettere sui temi caldi del nostro tempo, tramite conferenze, spettacoli, proiezioni, libri e podcast. Incentiviamo il dialogo tra fedi e culture diverse. Approfondiamo l'attualità e creiamo spazi di spiritualità e bellezza. Dentro le comunità, al servizio delle persone. Vieni a conoscerci!